Voglio soffermarmi su un problema che potrebbe sembrare secondario di poco conto ma non lo è. La questione delle fontanelle, in tutte le città italiane, soprattutto quelle che hanno una certa vocazione turistica, vi sono le fontanelle sparse per la città. Grazie a queste fontanelle la gente può un po' refrigerarsi, può bere un po' d'acqua, può sciacquarsi un po' il volto, insomma servono a combattere la calura estiva. A Taranto d'estate si boccheggia. A Taranto invece la maggior parte delle fontanelle sono tristemente spente, non funzionanti. Guardate, ci troviamo sul lungomare di Taranto, proprio nelle adiacenze del meraviglioso monumento ai marinai. Si vede il castello, un po' più avanti il ponte Girevole e questo magnifico lungomare. Perché vedete, io denuncio le brutture che ci sono a Taranto ma sono felice, fiero di avere un territorio così bello che però è amministrato in maniera penosa. Guardate questa fontanella qui in piazza Carbonelli, appunto tristemente spenta. Guardate come sarebbe bello, penso agli anziani, penso ai bambini, penso ai turisti, a chi che sia, per un attimo così assaporare quel sapore refrigerante, fresco, che ti dà la ricarica che è un po' d'acqua. Invece a Taranto nulla di tutto questo. Beh, l'amministrazione comunale non si muove in questa direzione, non si è mai mossa. Ora bisogna comprendere bene le ragioni di questo fermo prolungato negli anni, dobbiamo dire. Un sindaco dovrebbe evidentemente prendere contatti con l'acquedotto, ora non so, con niente di competenza. Insomma, deve essere priorità del sindaco Melucci quella di battersi per far sì che le fontanelle possano riprendere a funzionare, così come in tutte le città italiane. Ma Taranto è una anomalia. L'amministrazione Melucci è un'altra anomalia. Parla Melucci di vocazione turistica di Taranto, di Taranto Capitale del Mare, e benvenga Taranto Capitale del Mare, e poi non pensa a queste cose. Ma si sa, lui è chiuso nel palazzo, a lui arriva l'acqua nelle bottigliette belle fresche. Che sa lui dei poveri anziani che non hanno dove, non sanno come passare il tempo e magari sono costretti a passeggiare avanti e dietro e non hanno neanche un po' d'acqua per refrigerarsi, per reidratarsi. Che ne sa Melucci dei bambini che tirano due calci al pallone e cercano magari un po' d'acqua anche loro per avere un po' di sollievo. E anche per i turisti, i croceristi, sarebbe davvero piacevole così rinfrancarsi con un po' di acqua fresca. Anche l'acqua fresca a loro è negata a Taranto. Questo succede quando un sindaco non gira per la città, è chiuso, arroccato nel palazzo, lo ha fatto per quattro anni e mezzo, poi è ricomparso in campagna elettorale e ora è di nuovo scomparso nel nulla. A proposito, se qualcuno dovesse vedere Melucci in città, avvisatemi, il mio numero tutti lo conoscete, 339 240 4 240, ripeto, 339 240 4 240, vedere Melucci in città sarà come assistere all'apparizione della Madonna. Grazie a tutti.